Paris Hilton, incantevole con i suoi micro cani in braccio L'ultimo selfie di Paris Hilton non è solo un capolavoro di bellezza e dolcezza, ma ci ha dato anche modo di riflettere sul tenore di vita dei suoi cani. . Nello scatto, la vediamo con un batuffolino di pelo di nome Princess, ma ci sono molti altri cuccioli nella sua vita, e la regina di Ibiza li adora senza condizioni o badare a spese. Paris Hilton, vita da cani?. Quando si parla di lusso e spese pazze, potete stare certi che Paris Hilton estenderà il suo sorprendente stile di vita a tutti coloro che si sono guadagnati uno posto nel suo cuore. La bella socialite non è nota solo per la sua eccentrica stravaganza, ma anche per la generosità e la creatività con cui innalza il tenore di vita dei suoi amici a quattro zampe formato borsetta. Potremmo quasi affermare che i suoi cani hanno unalimentazione più sana e bilanciata del tenager medio, senza allontanarci dalla realtà poi così tanto. E non solo, tutto quello che Paris fa per i suoi animali, lo fa con amore incondizionato e senza badare a spese. Nellultimo scatto su Instagram, la bella socialite sfoggia con orgoglio tre dei suoi bellissimi cagnolini, un sorriso di mamma orgogliosa e, naturalmente, il solito killer look. Oltre alla classica chiara, ci sono anche gli occhiali da sole a forma di cuore e la t-shirt versus e a rendere tutto più cool. Ma la domanda è presto fatta, come vivono i cani di Paris Hilton?. Come vivono i cani di Paris Hilton?. Secondo il suo feed Twitter, Paris Hilton avrebbe fatto costruire una piccola magione per cani dedicata interamente ai suoi cuccioli. La villa in muratura, e in miniatura, sarebbe comprensiva di un giardinetto delizioso, balconcini, aria condizionata, riscaldamento, arredamento di alto design e un meraviglioso lampadario chandelier. Poco fuori dall'ingresso, con una porta misurata per far passare una fortunatissima signora delle pulizie, c'è uno splendido idrante d'oro, l'obiettivo più centrato dai bisognini dei cuccioli di Paris. All'interno della villa per cani sono dislocati una serie di grossi cuscini design per le nanne e una stazione per il cibo di tutto rispetto. Paris adora i suoi chihuahua, i suoi mini pinschere e i suoi tè a copiocchie se, quando può, li rende i protagonisti indiscussi delle sue giornate. Basti pensare che la giornata ideale dell'erede del colosso alberghiero Hilton riguarda per un buon 50 i suoi animali e l'amore incondizionato che è sbocciato tra lei e Shris Zilka. E mentre Paris ama circondarsi non solo di cani, ma anche di gatti e furetti, la sua vita potrebbe cambiare per sempre da un momento all'altro. Sembra che i due siano infatti pronti a fare il grande passo e a mettere su famiglia. Come cresceranno i figli di Paris Hilton? Possiamo solo immaginarlo vagamente. La realtà, di certo, andrà oltre ogni più rosea aspettativa. Grazie 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 Grazie